Due giorni in cui Napoli è tornata capitale del calcio da tavolo. Sabato 28 e domenica 29 gennaio, il polifunzionale di Soccavo ha ospitato l'edizione 2017 dell'International Major of Naples, il primo di cinque major che compongono il principale circuito internazionale dell'evoluzione sportiva dello storico subuteo. A contendersi i titoli in palio c'erano 32 squadre e oltre 150 atleti per il torneo individuale, provenienti da diversi paesi europei, tra cui Belgio, Francia, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Malta e Spagna. Presente anche il cosiddetto Maradona del Subuteo, il napoletano Massimo Bolognino, 21 volte campione del mondo. Nella prova squadre vittoria del club romano delle Fiamme Azzurre, mentre sul gradino più alto del podio nella prova individuale sono saliti due giocatori partenopei. Tra i Open il successo è andato a Matteo Ciccarelli dei Fighters Napoli, che si è imposto sul reggiano Luca Zambello. Nella categoria Under-15 ha trionfato Francesco Vizzuto dei Eagles Napoli. Anche gli altri mi chiamano il Maradona del Subuteo per il tipo di gioco che faccio, molto fantasioso e di difficile coprenessione da parte dell'avversario. Fondamentalmente ci debba essere una buona dose di talento, come nei calciatori. Penso di averne tanto, dopodiché viene la tecnica. Il misto delle due cose fa un calciatore di calcio tavolo spettacolare, come nel calcio alla fine. Talento e fantasia fanno un grandissimo giocatore, come lo è stato Maradona, come lo sono ancora oggi tanti giocatori di fantasia. Non tutti sanno che c'è un campionato italiano a squadre, c'è una serie A, una serie B, una serie C, una serie D, anche nel calcio da tavolo. Quindi l'Italia è una nazione portante a livello internazionale. C'è un campionato italiano individuale, c'è la Coppa Italia come nel calcio e c'è anche la Coppa dei Campioni come nel calcio, dove partecipano tutte le squadre che hanno vinto i vari campionati in Europa. Quindi c'è tantissime attività, oltre che poi ai mondiali, che sono il culmine, che rispetto al calcio si fanno ogni anno. Quindi è un momento anche di maggiore competizione per tutti quanti. E questo dopo il mondiale è il torneo più importante a livello individuale e a livello di squadre, perché partecipano tutte le squadre più forti e tutti gli individuali più forti. Anche di più rispetto al mondiale, perché il mondiale è a partecipazione ristretta, quindi o tramite classifica o praticamente per convocazione, mentre qui l'iscrizione è libera e quindi può partecipare chiunque. Grazie. Grazie. Grazie.